Buonasera a tutti, bentrovati e anzitutto complimenti per l'ottimo lavoro che avete svolto, tutti coloro che hanno avuto la pazienza di seguire le attività di queste settimane. Mi sembra che veramente i risultati siano di grande interesse, sintomo di un impegno e di una applicazione costanti. Sinteticamente il percorso che è stato descritto è un percorso che si è basato, lo ricorderete quando l'abbiamo lanciato in occasione del primo incontro in videoconferenza, che si è basato sul metodo delle Attivities di Gilly Salmon, è stato costruito su tre moduli improntati ad un input iniziale e a un'attività nel corso d'opera che ha portato alla realizzazione di un prodotto finale. Questi tre moduli erano relativi rispettivamente. Il primo ad attivare riflessione su Facebook e sulle modalità specifiche dello stare in Facebook delle persone e delle dinamiche di comunicazione che questo stare in Facebook innesca e sviluppa. Il secondo è relativo alla riflessione su alcuni temi caldi della comunicazione in rete e vi era stato chiesto in questo secondo modulo di sviluppare comunicazione all'interno di quattro forum tematici aperti da Simona e da Alessandra. L'ultimo modulo vi proponeva invece di immaginare una microprogettazione, la realizzazione di un piccolo progetto a partire da uno dei temi che erano stati indicati come sempre relativi all'argomento generale del corso, un progetto che poi vi veniva chiesto di postare e l'avete fatto, sarà analizzato, anzi l'abbiamo già analizzato e vi sarà restituito individualmente con un feedback personalizzato per ciascuno di voi. L'incontro di questa sera noi l'avremmo pensato in due momenti. In un primo momento proverei a restituire feedback su alcuni aspetti su alcuni elementi che sono emersi dall'analisi dei tre moduli. Alessandra e Simona hanno proceduto ad una verbalizzazione, alla realizzazione di una sintesi che ci ha consentito di evidenziare alcune questioni, alcuni temi che vi restituisco con qualche commento. Nella seconda parte della serata, anche a partire da questa mia prima restituzione, apriremo lo spazio a interventi vostri, osservazioni e richieste di chiarimento, di approfondimento che dovrebbero consentirci di giungere a chiudere questo nostro percorso. In conclusione sarà Giovanni Silvestri, il presidente Weka, a prendere la parola per darvi il suo saluto e per lanciare il prossimo corso tenuto dal professor Andrea Tomasi dell'Università di Pisa. La restituzione individuale, personalizzata del feedback sul vostro progetto, Simone e Alessandra, la realizzeranno entro la prossima settimana. Quindi il corso si conclude ufficialmente questa sera. Simone e Alessandra si prendono ancora una settimana di tempo all'interno della quale metteranno mano ai vostri progetti, stenderanno una scheda di feedback e ve li restituiranno a ciascuno di voi in modo tale che possiate appropriarvi, integrare le loro osservazioni e se riuscirete, se avrete la possibilità di farlo andare ad applicare, a sperimentare i progetti. Attivo, avvio allora la prima parte del nostro incontro provando a restituirvi la nostra sintesi sulle questioni aperte dai tre moduli. Con ordine, partirei da qualche considerazione relativa all'esercitazione di analisi di Facebook che vi era stata proposta. Le raccolgo queste osservazioni attorno a tre indicazioni di lavoro. Mi sembra di poter dire che emerge molto bene dalla vostra discussione che Facebook funziona come un marcatore di personalità. Che cosa intendo dire? Intendo dire che in maniera molto opportuna dalla discussione che avete prodotto si evince come l'identità, chiamiamola così, virtuale o sociale delle persone si collochi in perfetta continuità con la loro identità reale. In buona sostanza vi pare di poter dire perché dalla vostra analisi risulta che in Facebook tendenzialmente non si bara. Si è quelli che si è nella vita normale, nella vita di tutti i giorni, facendo saltare, scardinando così quella scansione un po' troppo artificiale, un po' troppo forzata, cui ancora spesso si ricorre tra realtà reale e realtà virtuale, che quindi mi pare di poter dire, dalle vostre analisi sembra decisamente superata. Quindi Facebook come marcatore di personalità è una prima indicazione che emerge dalla vostra analisi. Insieme alla considerazione di Facebook come marcatore di personalità emerge bene dalla vostra analisi che Facebook funziona anche come marcatore generazionale. Lavorando sulle identità in Facebook si colgono molto bene le distanze tra le generazioni, o meglio, si coglie subito qual è l'elemento comune tra le generazioni, ed è il linguaggio, il ricorso ad un gergo molto informale che pare essere trasversale a giovani e adulti, ma è l'unico elemento accomunante. Tutti gli altri elementi tendono a divericare e a differenziare i profili generazionali. Pare di poter dire che mentre l'adulto sta in Facebook senza ampliare eccessivamente la propria cerchia sociale, quindi il numero degli amici è tendenzialmente ridotto. Il numero dei gruppi in cui l'adulto si iscrive è tendenzialmente ridotto e nel momento in cui deve scambiare comunicazione all'interno del suo social network, l'adulto tende a farlo sostanzialmente ricorrendo a testo e testo autoriale, cioè tende a scrivere lui il testo della comunicazione che attiva con i suoi amici, tra virgolette. Nel caso del giovane e dell'adolescente le regole del gioco cambiano. Qui prevalgono i link e non i testi e prevalgono i link multimediali rispetto al testo scritto. Quindi i più giovani si esprimono con musica e immagini e si esprimono con musica e immagini che sono linkati da altre risorse collocate nella rete. E naturalmente man mano si abbassa l'età dei soggetti, più si alza il numero degli amici nel loro social network e il numero dei gruppi a cui sono iscritti. Questo potrebbe agevolare da parte nostra l'aprirsi di tutta una serie di considerazioni di tipo sociale e di tipo educativo. In base a quali criteri i più giovani accettano così tanti amici? Sono tutte persone conosciute? Non sono persone conosciute? E perché si iscrivono a così tanti gruppi? Quali sono le ragioni che li porta ad avere un network sociale così importante, così ampio, così vasto? Ultima considerazione in margine all'attività di analisi di Facebook, mi sembra che da un po' tutte le osservazioni che sono emerse occorra adottare alcune istruzioni per l'uso, chiamiamolo così, asimmetrico di Facebook. Quando ad essere in Facebook sono degli adulti e degli adulti educatori come siete voi, accettando amicizia di soggetti minori di età che spesso sono i destinatari del vostro intervento educativo. Il problema è il seguente, che cosa succede quando dentro Facebook, che è uno strumento di comunicazione sostanzialmente orizzontale, simmetrico, pensato per l'attivazione di relazioni tra pari, che cosa succede quando dentro questo tipo di ambiente sociale ci sono degli adulti che attivano relazioni di tipo informale con soggetti ai quali però sono legati da una relazione asimmetrica, come quando io professore accetto l'amicizia di miei allievi, come quando il catechista o l'animatore di oratorio accetta l'amicizia dei suoi ragazzi, come quando il parroco accetta l'amicizia dei suoi parrucchiani e dei suoi parrucchiani più giovani. E qui occorrono alcune attenzioni, occorrono alcune attenzioni soprattutto perché la nostra presenza nel social network possa essere una presenza da testimoni, per parafrasare un termine che negli ultimi tempi va molto di moda, a partire dal testo del messaggio del Papa sui testimoni digitali. Che cosa succede in Facebook? Succede che la struttura, la conformazione dell'ambiente, lavorandoci sopra ve ne sarete accorti, è fatta in modo tale che io condivida con i miei amici tutta una serie di informazioni anche molto private, anche molto informali, anche molto di retroscena, usando il termine retroscena nel senso tecnico cui fa riferimento Goffman nella sua analisi sociologica, lo stesso termine che avevamo evocato nel primo incontro in videoconferenza quando abbiamo aperto il modulo. Ci sono comportamenti, immagini, testi, fatti che normalmente noi nella vita reale riserviamo al nostro retroscena. Cioè non tendiamo a condividerli con tutti, li condividiamo soltanto con i nostri amici, ma con gli amici veri, cioè con quelle persone delle quali ci possiamo fidare rispetto alle quali confidiamo di poter attivare uno spazio di comunicazione che resterà nostro senza essere condiviso con altri. In Facebook questo non è possibile. Se io tengo un album fotografico delle mie fotografie in Facebook, so perfettamente che questo album fotografico è condiviso da chi ottiene da me amicizia in Facebook. E allora se chi ottiene da me amicizia è il mio ragazzino del catechismo o è il mio allievo, io devo sapere prima quali fotografie inserire nel mio album, perché se il problema me lo pongo dopo è già tardi, ho già condiviso con lui uno spazio che verosimilmente non avrei dovuto condividere. E lì ci sono delle attenzioni di tipo linguistico, di tipo sintattico che vanno tenute, perché altrimenti il rischio è di non riuscire a stare nel social network in maniera significativa, ma di finire per starci consentendo a chi è in relazione con noi di accedere a delle informazioni o a degli aspetti, a dei tratti della nostra personalità o della nostra esistenza che di per sé non avremmo voluto o dovuto condividere con lui. Questa era un po' la prima serie di considerazioni che mi venivano da fare analizzando insieme a Simona e ad Alessandra le vostre produzioni online. Un secondo gruppo di osservazioni va ad organizzarsi invece attorno alla seconda attività, che era l'attività di forum. E lì, devo dire, ho partecipato, anche se da dietro le quinte, leggendo i vostri messaggi più che lasciarne io di persona se non qualcuno giusto per commentare per chiosare quello che stava succedendo. E devo dire che, alla luce di questa osservazione e della ottima sintesi che Simona ha prodotto della vostra comunicazione in forum, mi sembra di poter organizzare quel che è emerso nel vostro forum, nei vostri quattro forum, attorno a tre temi, che enuncio così e poi provo a spiegarli meglio. Primo tema, informazione. Buona parte della vostra riflessione è ruotata attorno alla questione centrale della informazione. Secondo tema, dieta mediale, lo esprimo così, poi ci ritorno. Terzo tema, mente 1.0, risorse 2.0. Recuperando le immagini che due di voi hanno utilizzato nella discussione. Provo a percorrere rapidamente questi tre punti. Primo punto, l'informazione. La vostra analisi mi sembra che abbia colto molto bene tutta una serie di questioni scoperte in materia di informazione nel social network, nel web 2.0. Prima questione che avete colto. Attraverso gli strumenti del social network si aprono spazi importanti per l'informazione non ufficiale e per l'informazione pluralistica. Quindi il social network moltiplica il numero delle fonti di informazione e porta in primo piano le fonti non ufficiali rispetto a quelle ufficiali che tendono invece a coincidere con le notizie di agenzia e con le informazioni della grande cronaca nazionale. Questo che cosa comporta? Comporta sicuramente un vantaggio per la democrazia, come molti osservatori dicono. Pluralismo, moltiplicazione dei punti di vista uguale maggiore libertà di articolazione del pensiero. E questo sicuramente è un aspetto rilevante, soprattutto nella misura in cui questa molteplicità di punti di vista coincide con il punto di vista non ufficiale di qualche osservatore degli eventi in presa diretta. Ma c'è il rovescio della medaglia che avete evidenziato molto bene, sottolineando ad esempio come nel caso di questa informazione grigia da social network il confine tra il fatto e il commento sia ancora più labile che nel caso dell'informazione ufficiale. Dove finisce il fatto e dove comincia il commento interpretativo del testimone, dell'osservatore che me lo restituisce? Seconda questione, secondo problema che avete evidenziato è il problema della verifica e della gerarchia delle fonti informative. visto che le fonti sono non ufficiali, chi mi garantisce che siano attendibili? E una volta che io abbia appurato la loro attendibilità, in che rapporto stanno le une con le altre? Chiedersi quale sia la gerarchia delle fonti significa chiedersi dove sta la notizia originaria e quali altre notizie sono riprese di quella notizia e quali notizie sono riprese della ripresa e così via. Ultima questione che voi evidenziate molto bene è relativa alla necessità di sviluppare nei soggetti, soprattutto nei soggetti in età evolutiva, nei soggetti che stanno ancora formando i loro quadri valoriali, la necessità di formare la capacità di giudizio critico nei confronti di questi dati. In ultima istanza, la moltiplicazione delle fonti di informazione attraverso il pluralismo predispone spazi democratici, ma attenzione, sembrate voler dire, perché? Perché più informazioni vuol dire anche maggiore entropia, vuol dire anche maggior complessità da controllare e non è detto che controllare la complessità sia per forza meglio che avere a che fare con poche fonti informative filtrate, ovvero al rischio che abbiamo alle spalle di una comunicazione eccessivamente ideologica potrebbe sostituirsi il rischio di una comunicazione completamente disorientata, in mezzo a una miriade di fonti informative tra le quali non possiamo materialmente scegliere, perché non ne abbiamo i criteri, in questa logica, tra questo a miriade di fonti informative, non riuscire ad esercitare la possibilità di scelta, in fondo corrisponde a non poter godere di quella libertà, di quello spazio democratico di movimento che la moltiplicazione delle fonti invece parrebbe garantirmi. Quindi sul tema informazione siete molto attenti, individuate tutti gli aspetti positivi, interessanti, ma giustamente, opportunamente indicate anche il possibile risvolto negativo. Seconda questione, secondo tema, emerso molto chiaramente dai vostri forum è il tema della dieta mediale. Tutti avete riconosciuto che i media digitali fanno parte della vita individuale e sociale dei soggetti, soprattutto dei soggetti più giovani, proprio per questo indicate la necessità di costruire, di abilitare diete mediali equilibrate. Una dieta mediale equilibrata è una dieta in cui si mangia un po' di tutto. Per utilizzare la metafora alimentare, soprattutto riguardo ai più giovani, è opportuno in materia di dieta mediale non creare le condizioni né perché diventino bulimici né perché diventino anoressici. Sarebbe scorretto far sviluppare soggetti anoressici perché mettiamo sotto chiave tutte le tecnologie che sono a disposizione in casa. Ci rifiutiamo di comprare loro un telefonino, non abbiamo la televisione satellitare, si fanno scelte drastiche di censura. I media sono tenuti fuori dalla vita dei soggetti. Il risultato? Anoressia mediale. E anoressia mediale vuol dire privare il soggetto, soprattutto giovane, di molta parte di quegli argomenti che gli servono per socializzare con il gruppo dei pari. Non va bene. È evidente che non va bene nemmeno l'eccesso opposto. Il bulimico multimediale è qualcuno che deve riempire per forza la sua giornata con qualsiasi forma di consumo mediale, che anche quando sta mangiando continua a giocare con il Game Boy e tiene l'orecchio al televisore che è rimasto acceso in salotto. Lì occorre intervenire per ridurre drasticamente il suo consumo e soprattutto far capire al soggetto che ci sono altre forme di consumo culturale altrettanto importanti rispetto alle quali forse conviene lasciare spazio, lasciare tempo. Allora la logica della dieta è una logica di promozione di un equilibrio del consumo. Occorre promuoverla questa logica tenendo sempre molto ben presente che le pedagogie impositive, le pedagogie dell'obbligo imposto dall'alto senza motivazione non funzionano, occorre, come dice Mervieu, percorrere la strada delle pedagogie del contratto, delle pedagogie negoziali. Pedagogie del contratto, pedagogie negoziali che provano a far uscire fuori la dieta da una contrattazione condivisa ad esempio all'interno della famiglia. Se la soluzione è condivisa, se la soluzione esce da una negoziazione che ha visto per protagonisti i genitori e i ragazzi insieme, state pur tranquilli che quella dieta sarà assunta e fatta proprio dal ragazzo che la seguirà con scrupolo. Non così se gliela imponessimo. Terza questione, terzo punto, mente 1.0, risorse 2.0. Che vuol dire che cosa? Vuol dire che avete colto benissimo un aspetto estremamente interessante. Le risorse possono essere 2.0, ma se la mente è ancora 1.0, il rischio di usare risorse 2.0 come se fossero 1.0 è forte. E quindi diffidate della capacità dello strumento di modificare i vostri quadri mentali. Sono i quadri mentali che devono modificarsi per poter utilizzare lo strumento secondo le potenzialità che gli sono proprie. E vengo al terzo punto che riguarda la redazione dei vostri progetti, l'ultima delle tre attività previste dal modulo. Qui lavorandoci sopra con Alessandra e con Simona ci sembra di aver individuato quattro parole chiave attorno alle quali i vostri progetti si possono aggregare. E sono cittadinanza, condivisione, motivazione, comunità. E sono altrettante parole programmatiche. Sono altrettanti modi di pensare la tecnologia a supporto dell'attività didattica ed educativa nei nostri ambienti. Cittadinanza, condivisione, motivazione, comunità. Queste quattro parole chiave ci sembra che le abbiate declinate secondo due tipi di approccio. Un approccio più strumentale e un approccio più critico. Provo a fare un esempio per farvi capire meglio. Il tema della cittadinanza, o meglio, il tema dell'uso delle tecnologie, delle nuove tecnologie, dei media digitali per la costruzione della cittadinanza, si può intendere in senso strumentale come un'operazione di riduzione del divario digitale. Consentire a tutti l'accesso alle tecnologie, quindi spiegare a tutti gli alfabeti di base che consentano loro di accedere alle tecnologie, significa costruire la cittadinanza attraverso un approccio strumentale. Spiego i linguaggi, spiego gli strumenti tecnici. Ma la costruzione della cittadinanza passa anche attraverso la elaborazione di un approccio critico. E allora costruisco cittadinanza attraverso le tecnologie nella misura in cui provo a far riflettere il ragazzo, ad esempio, su che cosa significa per lui fare un uso consapevole e responsabile del suo telefono cellulare. Come capite qui il livello è diverso dall'accesso strumentale. Non è più una questione di alfabeti, è una questione di etica dell'uso, è una questione di maturazione di quadri di valore che consentano al ragazzo di riflettere consapevolmente su quello che sta facendo, facendolo in maniera responsabile. Lo stesso tipo di lavoro vale per gli altri tre termini. Anche la condivisione io la posso immaginare in termini strumentali, creando uno spazio perché ci sia condivisione o in termini critici, lavorando a sviluppare una cultura della condivisione. Uno di voi ha costruito un progetto molto interessante su come attivare un corso per fidanzati in Facebook, ad esempio. Generando dal punto di vista strumentale uno spazio di condivisione perché i tuoi fidanzati possano descrivere il loro percorso. Come molti progetti riportavano il tema della condivisione declinandolo nel senso del rapporto tra le generazioni. Quindi Facebook, il social network, un blog come spazio per consentire alle generazioni di parlarsi, di condividere elementi comuni, di condividere linguaggi. Vale la stessa cosa per la motivazione, moltissimi hanno individuato nelle tecnologie una opportunità per rendere l'apprendimento più motivante, più interessante. Da ultimo il discorso della comunità. C'è uno dei vostri progetti che è stato immaginato come un progetto di attivazione di una comunità religiosa grazie alla mediazione di una piattaforma e-learning. Si può costruire comunità, nella comunità, attraverso uno strumento di social networking? Questo è il punto. Ecco, mi sembra che siano quattro belle prospettive di lavoro e che sia altrettanto chiara la individuazione dei due approcci. Strumentale, critico. Con alcune attenzioni e su queste tre attenzioni, su queste tre istruzioni per l'uso, chiudo la mia restituzione e giro a voi la parola per qualche domanda o per l'attivazione di qualche approfondimento. Ci siamo accorti percorrendo i vostri progetti che forse non tutti hanno ben chiaro il concetto di tecnologia 2.0. In qualche progetto sembrava che diceste, ah benissimo, bisogna utilizzare tecnologia 2.0 e poi ci si accorgeva che veniva definita tecnologia 2.0 magari la posta elettronica piuttosto che un forum o una chat. Che tecnologia 2.0 non sono? Richiamo il concetto di tecnologia 2.0 che con Timorilli indica quella tecnologia caratterizzata dal fatto di essere tutta nel web. Orilli dice che la piattaforma è il web nel caso della tecnologia 2.0, vuol dire cioè che è tecnologia 2.0 quella tecnologia che mi consente di non avere nulla se non il browser sul mio computer. Tutto il resto è in rete, sono in rete i contenuti ed è in rete il software attraverso il quale accedo, costruisco e condivido questi contenuti. Quindi è tecnologia 2.0 un blog, è tecnologia 2.0 un wiki, sono tecnologia 2.0 tutti gli ambienti di social networking comprese i servizi contenuti nella suite di Google. Tendenzialmente ricade ancora nella logica della tecnologia 1.0 tanto la chat quanto il forum. Nella misura in cui di solito sono resi disponibili all'interno di una piattaforma la quale è residente su un server e ormai in maniera limitata di solito prevede l'utilizzo di un client per accedervi. Seconda sottolineatura, l'importanza dell'extra scuola. Buona parte delle vostre progettazioni si sono orientate in maniera decisa o verso la famiglia come ambiente di progettazione o verso la scuola. Tenete presente che esiste anche l'extra scuola. Mi sembra che questi tre ambienti, scuola, extra scuola che per i nostri ambienti vuol dire sostanzialmente oratorio e famiglia, siano ambienti da concettualizzare come spazi di presenza, ciascuno con il suo particolare significato. La famiglia, per dirla ancora con merieux, come spazio all'interno del quale si afferma il principio d'origine, e il principio d'origine a che cosa allude? Allude al valore generativo della famiglia. La scuola come spazio all'interno del quale si afferma il principio di verità e quindi la scuola come spazio della relazione magistrale. L'oratorio come spazio all'interno del quale si afferma e gioca il principio di carità. E qui la relazione non è tanto di magistralità o di generatività, caso della famiglia, caso della scuola, quanto piuttosto una relazione di testimonianza o di missionarietà. Insomma, la famiglia come spazio della generazione e quindi dell'essere, la scuola come spazio della magistralità e quindi della conoscenza. L'oratorio, l'extrascuola come spazio della carità, quindi della missionarietà, quindi della maturazione di un'idea vocazionale sulla propria esistenza, sulla propria vita. Ciascuno di questi tre ambiti credo che meriti attenzione, in modo particolare il terzo, perché? Perché soprattutto sui temi dei media digitali e del social network consente all'animatore, al catechista, all'educatore margini di manovra che l'insegnante in scuola non ha e che il genitore in famiglia non riesce ad avere. sono margini di manovra consentiti dalla posizione, come dire, laterale di affiancamento che l'educatore può assumere rispetto al ragazzo. Una posizione laterale che all'insegnante di solito non è consentita e che il genitore fa fatica ad assumere. Per dirla con Don Bosco, quindi, l'animatore di oratorio è nella posizione migliore per sussurrare la famosa parolina nell'orecchio al ragazzo. È quella parolina che detta en passant, senza che abbia apparentemente un peso, un valore significativo, lascia, traccia in profondità ed orienta. Quindi, nella progettazione richiamerei l'importanza strategica dell'estra scuola, soprattutto nella nostra congiuntura socio-culturale. Ultima sottolineatura, ultima indicazione per l'uso, istruzione per l'uso, potremmo compendiarle in una domanda. Che cosa spiegare ai ragazzi? Che cosa dobbiamo spiegare ai ragazzi? Se le competenze mediali automatiche, meccaniche, le skills, l'abbiamo già detto molte volte, paiono essere autoalfabetizzanti, probabilmente non è quello che i nostri ragazzi si aspettano da noi adulti, da noi educatori. Se si tratta di spiegare loro come entrare in Facebook e quali siano le funzioni principali di Facebook, meglio risparmiarsi la fatica. Quelle funzioni sono autoalfabetizzanti, soprattutto per questi ragazzi che hanno una grande dimestichezza con queste tecnologie. E allora, il cosa spiegare è probabilmente qualcosa che ha a che fare con i livelli più alti della competenza, con la competenza critica e con la competenza che dice del saper gestire in responsabilità, con responsabilità questi strumenti. Allora, dagli skills, dalle competenze tecniche alle competenze critiche, alla capacità di gestire in maniera responsabile la comunicazione con questi strumenti, questa mi sembra essere la scala di livelli da provare ad applicare nei nostri percorsi. Io qui mi fermo sul mio primo input ringraziando e complimentandomi ancora una volta per la quantità e la qualità delle riflessioni che avete disseminato all'interno delle tre attività condotte in rete. E lascio a voi la parola, naturalmente consentendo a Simone e ad Alessandra di intervenire a loro volta qualora dovessero precisare o rilanciare qualcosa. Le domande sono molte, le suggestioni anche io raccolgo così intanto poi, abbiamo tempo di raccogliere proprio le ultime che stanno piovendo veramente dalla rete sulla chat. La prima, il testimone deve essere vero non una maschera, deve condividere la vita vera una sua immagine edulcorata rispetto al fatto che l'adulto in Facebook deve comunque farsi testimone. La seconda, anzi la domanda che invece arriva proprio all'inizio della nostra conversazione, quale può essere un modo per modificare i quadri mentali e adattarsi al 2.0? A questo si lega anche un'altra osservazione, servono sacerdoti 2.0 allora per avere una chiesa 2.0, non è solo l'insegnante a dover essere 2.0, è una bella figura quella del sacerdato 2.0. Altri sostengono invece la necessità di una rete tra scuola, parrocchia e famiglia come proposta, chiaramente sarebbe l'ideale forse se si riuscisse. Lasciamo un attimo la parola per queste richieste così possiamo raccogliere anche le altre. Benissimo, sul fatto che il testimone debba essere vero e non una maschera non ci piove, sono perfettamente d'accordo, nel momento in cui la testimonianza viene giocata nello spazio digitale occorrerà trovare le forme anche linguistiche perché la testimonianza sia vera, sia autentica. L'ultima richiesta, l'ultima osservazione occorre allestire reti tra scuola, oratorio e famiglia assolutamente condivisibile. Sapete che in molti contesti territoriali si stanno moltiplicando i cosiddetti patti di comunità. Un patto di comunità che cos'è? È un'alleanza educativa su un determinato territorio tra tutti i soggetti che sono responsabili dell'educazione dei ragazzi in quel territorio, quindi oratorio, famiglia, scuola, società sportiva, associazioni del tempo libero. Tutti gli spazi cioè entro i quali il ragazzo spende durante la settimana del tempo in quanto soggetto di educazione. Un patto di comunità è un accordo tra tutti questi attori che favorisca la circolazione delle informazioni sul ragazzo tra tutti gli attori e consenta a ciascuna di queste agenzie di essere efficace nel suo lavoro educativo e soprattutto di non collocarsi in contraddizione con il lavoro che qualcuno degli altri enti sta facendo. Senza un patto di comunità verosimilmente il rischio che l'allenatore della squadra di calcio remi contro, anche senza volerlo, quel che l'insegnante al mattino dice a scuola c'è ed è forte. E l'ultima domanda è una domanda da 100 milioni di dollari. Come si modificano i quadri mentali? È difficilissimo modificare i quadri mentali. Perché è difficilissimo? Perché tendenzialmente noi lavoriamo per adattamento, cioè i nostri quadri mentali sono più forti delle nuove esperienze che facciamo e il modo in cui lavoriamo è di prendere le nuove esperienze e di provare in tutti i modi a riportarle a quadri mentali che già possediamo. Questo persino nel caso in cui la nuova esperienza comporti di rimettere in gioco il quadro mentale. Riusciamo a, come dire, ad imbrigliare e a modellare la nuova esperienza fino a riportarla al quadro mentale che già possediamo. Molto più difficile accomodare che adattare. L'accomodamento che cosa comporterebbe? Comporterebbe, direbbe sempre Piaget, di modificare i quadri mentali alla luce di esperienze nuove che li mettono in crisi. Ma per accomodare bisogna avere più consapevolezza e quindi più libertà di manovra che non per adattare. Adattare è molto più comodo. E questo rende ragione del fatto che in tutte le organizzazioni la resistenza al cambiamento e l'assestarsi su posizioni tradizionali sia la norma. E credo che anche nella Chiesa, a tutti i livelli, valga la stessa cosa. Per promuovere il cambiamento occorre spingere moltissimo perché i soggetti siano messi in condizioni di accomodare e di non adattarsi. Forse la nascita del sacerdote 2.0 la si può intravedere all'interno di questa forbice. Credo che sulla possibilità di vedere all'opera una generazione nuova di sacerdoti 2.0 le loro responsabilità ce le abbiano anche gli istituti di formazione. E quindi la costruzione del sacerdote 2.0 dovrebbe probabilmente cominciare già da dentro i seminari. Ma qualcosa si può fare anche a livello di formazione continua. Occorrerebbe immaginarsi tutta una serie di azioni di aggiornamento professionale. Chiamiamole così. Dopodiché sacerdoti 2.0 ce ne sono già in un numero discreto in giro per l'Italia. E fanno cose tutt'altro che stupide. Anzi, di grande rilievo e di grande appeal, di grande modernità. Il problema però è di fare in modo che queste personalità di pionieri sperimentatori possano riuscire a farsi traino anche per il grande numero. E che quindi il fatto di essere 2.0 possa diventare una caratteristica del sistema e non soltanto la prerogativa di pochi individui particolarmente illuminati. Non è facile, ci si può lavorare. Credo già a partire dalla formazione dei nuovi presbiteri. Ecco, andando sul tema dell'educazione continua, altro soggetto che dovrebbe essere immesso in questo percorso ci segnalano è quello dell'educatore. Quindi la formazione degli educatori a tutti i livelli va mantenuta e incentivata anche su questi temi, dove con educazione passa l'idea, ci dice Anselmo, proprio del mettere in condivisione esperienze e saperi. Questo come aspetto di rilevanza. Poi, vabbè, che ci sono già degli sacerdoti 2.0, molti lo dicono dalle loro esperienze e contatti diretti. Venendo un po' ad alcune domande, invece, una prima più di strategie. Come far passare i veri valori in un modo accattivante, tramite testimonianze che siano significative anche di un essere 2.0, da una parte. Quindi quali strategie per rendere accattivanti l'educazione e i valori. L'altro aspetto più in chiave di domanda è il concentrarsi sul discorso del testimone, invece più su non tanto il soggetto testimone, ma in questo caso l'azione che viene fatta. Quindi occorre pensare a delle strategie di presenza in rete significative che siano guidate da obiettivi dichiarati e sani, tra virgolette, e dall'altra parte quella di un ritorno di queste azioni, di queste strategie dentro il 2.0 anche su la presenza, quindi un ritorno su un incontro presenziale, reale, e che sia significativo per educando, educatore, in questo caso. Sì, le due questioni mi sembrano strettamente collegate. Fatta salva l'assoluta condivisibilità dell'idea di un'educazione continua degli educatori. Lì siamo sicuramente d'accordo come il problema si pone per i sacerdoti, allo stesso modo si pone per catechisti, animatori, educatori, laici che operano dentro la comunità ecclesiale. E le altre due questioni sono strettamente connesse. Come far passare i valori in modo accattivante, come immaginare presenze significative in rete che riescano però a diventare presenze significative anche fuori della rete, cioè nei contesti reali. E lì occorrerebbe veramente mettere al lavoro l'immaginazione progettuale. posto che parlare di presentazione accattivante dei valori sembrerebbe quasi una contraddizione in termini. O meglio, pare che sia una, potrebbe essere pensata come una fotografia realistica della condizione attuale, una condizione all'interno della quale persino il valore per poter essere accettato debba essere presentato in maniera accattivante. Ecco, io più che parlare di modo accattivante di presentare il valore parlerei della necessità di mediare culturalmente il valore. Qui non è tanto questione di far passare le cose in una maniera più appealing, quanto piuttosto di tradurre il valore nei linguaggi che dentro certe culture è più facile intendere. Ecco, qui il problema è di mediazione linguistica e di mediazione culturale, cioè è un problema di inculturazione, è un problema di inculturazione che è un problema che il Kerigma e che la pastorale conosce da tempo e in maniera molto precisa è stato già messo in cornice dal Concilio Vaticano II. Ecco, qui credo che la sfida grossa sia trovare le forme linguistiche più adeguate per comunicare il valore dentro un linguaggio e una cultura, quella del Web 2.0, che è completamente diversa anche solo dalla cultura di rete precedente. Figuriamoci rispetto alle culture più tradizionali, quelle non di rete. La presenza significativa dentro e fuori la rete credo che si definisca proprio in relazione con questa capacità di mediazione. Il testimone digitale vero è, secondo me, colui che è capace di presenza significativa perché è capace di mediare il linguaggio e quindi di mediare la cultura. Non è semplice, come si capisce, non è solo questione di conoscenze tecniche, come è evidente, qui c'è un discorso di riflessione culturale, nello specifico, teologica da una parte, pedagogica dall'altra. Tutto un lavoro da immaginare, lo spazio della progettazione è aperto già fin d'ora. Tutto un lavoro da immaginare, lo spazio della progettazione è aperto già fin d'ora. Voi potete rilanciare, credo, eh, Simona, Alessandro, anche restituire qualcosa dal vostro punto di vista delle questioni e dei temi che sono stati proposti all'interno delle attività. Devo solo restituire una domanda perché le famiglie, il ruolo delle famiglie, non bisogna in questo caso usare l'etichetta 2.0, cioè famiglie 2.0, no, questa è la richiesta perché finisce per diventare uno slogan, allora veramente tutto è 2.0, anche il microfono dal quale stiamo parlando rischia di essere fra poco 2.0. Ma il discorso sulle famiglie rischia di essere lungo. qui Simona e Alessandro possono poi completare quello che sto per dire perché anche loro hanno partecipato a una serie di ricerche che negli ultimi tre anni almeno ci hanno portato come centro di ricerca a riflettere moltissimo su come i media digitali, in modo particolare internet e il telefono cellulare, sono entrati dentro la vita delle famiglie e l'hanno modificata. Provo a restituirvi qualche elemento per poi tentare di capire la famiglia 2.0 per gestire, per governare adeguatamente il rapporto con questi media si debba comportare. Un primo dato è questo, nel passaggio dal decennio 90 al decennio 2000 si è assistito ad un progressivo spostamento del baricentro del consumo dalla famiglia a fuori la famiglia. Nel senso che fino ai primi anni 2000 ancora, nell'80% dei casi, il luogo di consumo dei media era sostanzialmente lo spazio familiare. Dai primi anni 2000 in qua, in corrispondenza con l'affermarsi delle tecnologie mobili, delle tecnologie portabili, la possibilità della connessione da qualsiasi punto sta progressivamente spostando il luogo del consumo fuori del contesto familiare. Questo è un primo dato su cui riflettere. Secondo dato su cui riflettere. Fino al 2005, a livello internazionale, il telefono, anche il telefono cellulare, non era considerato un medium. Perché non era considerato un medium? Perché non veicolava contenuti. Perché nella maggior parte dei casi, fino a quell'anno, si riteneva che il problema, educativamente parlando, venisse dai messaggi e non dai mezzi. Quindi, il problema era la televisione, perché veicolava contenuti che potevano essere scorretti, il problema era il cinema, il problema sicuramente era anche internet, perché anche in internet ci possono essere contenuti sconvenienti, non il telefono, perché il telefono veniva immaginato soltanto come un veicolo di comunicazione. Dal 2005 in qua, si stanno moltiplicando tutta una serie di studi sul cellulare come medium all'interno della famiglia. E questo è un dato interessante, perché vuol dire che dal 2005 in qua, il cellulare smette di essere pensato e di essere vissuto solo come uno strumento di comunicazione e diventa un medium a tutti gli effetti. Terzo dato su cui poter ragionare è il dato quantitativo del possesso. A fine 2006, il 98% degli adolescenti italiani dai 12 ai 18 anni affermava di possedere un telefono cellulare. 98%. Una ricerca conclusa alla fine dell'anno dopo, 2007, in Lombardia, confermava che a 12 anni una buona parte dei ragazzini del campione, erano quasi 1500, aveva già cambiato due volte il cellulare. Un dato quantitativo che insieme agli altri due ci consente di comprendere qualcosa di come si sia modificato il profilo della famiglia alla presenza dei media digitali e come si è modificato il profilo della famiglia. Si è modificato, ad esempio, perché ha disimparato, o meglio, si è vista sottrarre la famiglia, le forme classiche del controllo. Tradizionalmente, nel tempo in cui la connessione avveniva da casa, era sufficiente esercitare il controllo. Prendevo il computer connesso alla rete e lo collocavo in sala. Non accettavo la moltiplicazione dei televisori nelle stanze dei ragazzi, ne tenevo uno soltanto e anche quello in casa. La relazione medium, luogo, connessione, mi consentiva questo. Nel momento in cui il cellulare o MTS porta con sé la possibilità di accesso a tutti i contenuti, è chiaro che non posso più esercitare nessun controllo sul luogo, perché? Perché il luogo non è più variabile e decisiva. Il ragazzino si sposta con il suo cellulare nella tasca e la sua possibilità di connessione con il mondo si sposta con lui. E questo è un primo aspetto che impatta sulle pratiche educative della famiglia 2.0. La famiglia 2.0 è una famiglia che ha perso, che ha disimparato, cui sono state sottratte le forme tradizionali del controllo. Deve inventarsi nuove forme di governo in merito al rapporto tra i figli e la tecnologia. Prima considerazione. Seconda considerazione. La famiglia 2.0 è però una famiglia all'interno della quale il cellulare che sembrerebbe far diventare impossibile il controllo può reintrodurre la possibilità della relazione dalla finestra dopo averla fatta uscire dalla porta. In una ricerca che abbiamo chiuso l'anno scorso e che è uscita in un volumetto che si intitola Guinzaglio elettronico, edito da Donzelli, avevamo indagato il modo di percepire da parte del genitore e da parte del ragazzo il cellulare. Quel titolo, il Guinzaglio elettronico, ci è stato suggerito da un ragazzino che ha partecipato ad uno dei focus group della ricerca. Alla domanda che cosa è per voi il cellulare, questo ragazzino ha risposto un guinzaglio molto lungo e questa risposta ci consentiva di capire che il ragazzino aveva capito tutto, aveva capito moltissimo della natura del cellulare. Perché è un guinzaglio molto lungo? Perché il genitore se lo rappresenta così? Il genitore pensa attraverso il cellulare di continuare ad esercitare il controllo sul proprio figlio anche al di là della condivisione del luogo. Sa probabilmente lui per primo che non esercita il controllo, perché una volta che il ragazzino è in giro, con il suo cellulare in tasca, può dirci di trovarsi in qualsiasi posto e non abbiamo lo strumento per verificare che sia esattamente così. Ma guinzaglio molto lungo è anche una definizione che si adatta benissimo alla rappresentazione che il ragazzo ha del cellulare. È un guinzaglio molto lungo perché io me lo tengo al collo e vado dove mi pare. Ai ragazzini cui Alessandra e i ricercatori chiedevano ma non vi vergognate di andare in giro con il cellulare acceso perché la mamma vi può rintracciare? A 15, a 16, a 17 anni non vi vergognate dei vostri pari, dei vostri amici, essere rintracciabili dalla mamma? Possibile? Risposta. Neanche per sogno, da quando siamo rintracciabili dalla mamma, riusciamo a star fuori in media 45 minuti in più. Tecnologia di controllo per il genitore, tecnologia di libertà per il ragazzo. Lì in mezzo il cellulare diventa uno spazio di negoziazione. Quindi sottrae, è vero, alla possibilità del controllo del genitore il ragazzo, ma dall'altra parte crea le condizioni perché proprio da partire dal cellulare i due ricominciano a parlarsi, negozino, contrattino e si crea uno spazio per fare educazione. E si potrebbe continuare ancora a lungo, ma capite che le logiche, le dinamiche di gestione della tecnologia e del rapporto educativo all'interno della famiglia sono modificate in profondità, si espongono a tutta una serie di processi di ridefinizione, aspettano una nuova sistemazione di strategie, di nuove strategie di intervento educativo. Non so se su questo aspetto delle pratiche familiari della famiglia 2.0, Simone e Alessandra magari che hanno seguito sul campo queste ricerche a cui facevo riferimento hanno qualche cosa da aggiungere. Io sì, ma molto brevemente perché nel frattempo sono arrivate altre domande, altre considerazioni che meritano più attenzione rispetto a quello che posso aggiungere in questa fase, in questa sede. Però rispetto alla famiglia digitale, chiamiamola così, alla famiglia che ha tanti mezzi di comunicazione, che ne ha di numerosi, con una certa varietà, diciamo che l'arredamento tecnologico della famiglia digitale è multiforme, non solo per la quantità ma anche per la qualità. Ma una delle cose che ci ha lasciato la ricerca è proprio questa consapevolezza rispetto alla, possiamo dire, maturità, anche preadolescenti, non solo degli adolescenti, che storicamente invece sono considerati poco attenti, non uso le parole di Brunetta Fanulloni perché sono post, però non è ancora il loro tempo per essere tali, però superficiali, che hanno più connessioni, che sono in numerosi gruppi, e sono in tanti ambienti di relazione, quindi si potrebbe presumere una certa lettura superficiale. Invece, proprio loro ci suggeriscono delle parole che i genitori stessi non hanno ancora ben chiare in testa, forse perché non hanno il linguaggio che dicevamo prima. E rispetto al cellulare, allora la domanda può essere questa. Perché è solo il cellulare a creare questa connessione tra genitori e figli? Perché è il cellulare ad essere effettivamente l'unico spazio di negoziazione? Perché il cellulare è uno strumento che il genitore possiede, quindi il genitore ha del cellulare l'alfabeto base che citavamo sopra, ed è proprio per questo che diventa spazio di connessione. Allora penso e pensiamo a tutte le potenzialità di incontro che i nuovi alfabeti, quelli che sono nuovi ma che sono ormai masticati da molti, potrebbero portare alla famiglia digitale se solo la famiglia, se solo i genitori iniziassero un percorso in questa direzione. Perché chiaramente non è a caso il cellulare, non è solo perché ha un guinzale elettronico, ma perché lì il genitore si sente forte, so mandare gli sms, forse mando gli mms, telefonare a telefono, ho questo strumento in tasca così come c'è la mia figlia, quindi possiamo in questo caso comunicare. Facebook e altri strumenti invece hanno ancora non solo un allure di distrazione, non dico perdizione perché ormai sono altri gli spazi di trasgressione, non è più la rete, si è più trasparenti, abbiamo visto, però si ha ancora un'idea di perdita di tempo, mentre il cellulare è utile, è per questo anche che il genitore lo accetta. Quindi è la ricerca che ci, e sono proprio i ragazzi delle ricerche, i ragazzi che incontriamo che ci danno spazio per parlare di questi argomenti, quindi superiamo l'idea di adolescenti superficiali e senza attenzione, come dire, conosco lo strumento, conosco l'ambiente e soprattutto ho fatto un'analisi attenta dei costi e dei benefici, il costo è la perdita, diceva il professor Rivoltella della mia privacy, il beneficio è però che io posso uscire, posso fare cose, posso entrare in relazione, perché questo è poi l'obiettivo, essere in relazione con gli amici sempre più in una realtà aumentata, perché di fatto quando tornano a casa chattano, messaggiano con le persone che vedono anche per 5 ore la mattina prima di entrare in famiglia. Ritorno un attimo sulle domande, visto che ce ne sono ancora qualcuna postata, a parte la preoccupazione anche del rapporto tra comunità ecclesiale e i ragazzi nell'ambiente 2.0 che viene richiamata all'attenzione e poi come cambia il rapporto educativo entrando in questo 2.0. Se la trasmissione di informazioni e dei valori non è più unidirezionale, che cosa succede? Un'ultima considerazione invece che qui leggo perché è abbastanza lunga e complessa è quindi potremmo dire che l'etica della comunicazione per un educatore consista nell'impegno a mantenere alto il livello valoriale e culturale dell'ethos complessivo del target di riferimento. Questo vorrebbe dire che il cerchio si chiude quando c'è un effettivo ritorno positivo nella relazione concreta, quindi c'è una retroazione concreta, pragmatica sulla relazione presenziale. Potremmo ritenere questo come uno dei criteri guida per valutare la qualità della presenza nel web 2.0, quindi questo ritorno delle azioni dentro il 2.0 sulla relazione presenziale come indicatore di buona riuscita, di valore, della qualità della relazione che è instaurato anche dentro spazi 2.0. Subito sulla seconda questione assolutamente sì, direi proprio di sì, non temere di mirare alto, non aver paura di proporre standard etici impegnativi, se opportunamente motivati, chi ci lavora lo sa, i giovani rispondono e rispondono con una insospettabile, travolgente freschezza. E quindi mi sembra che questa affermazione con cui il nostro amico sintetizza il suo pensiero sia assolutamente condivisibile e possa diventare una pista di lavoro molto concreta. L'altra questione, come cambia il rapporto educativo, è una questione rilevante, molto rilevante. Il rapporto educativo cambia perché, come giustamente viene osservato, nel Web 2.0, nel social network, la logica di costruzione del senso è dal basso, emergente. Quindi è uno spazio non tassonomico, è uno spazio non ordinato dall'alto, ma è uno spazio che si dà da sé il proprio ordine, costruendolo dal basso. E questo, dal punto di vista educativo, colloca l'educatore, ancorché nella sua asimmetria di educatore, in una prospettiva molto orizzontale. Quindi è come se io giocassi la mia asimmetria di educatore non in una relazione verticale, ma in una logica, in una prospettiva orizzontale. E lì occorre immaginarsi tutta una serie di strategie che sono strategie diverse. È diverso risultare significativi all'interno di un rapporto che nella tradizione mi riconosceva autorità e me la riconosceva per il semplice fatto di gestire un ruolo, molto diverso da questo essere significativi all'interno di una relazione orizzontale dove questa autorevolezza io me la devo ritagliare perché il mio ruolo magari istituzionalmente non ce l'ha più così forte. Ecco, se vogliamo sintetizzarla così è un po' questa la logica che porta l'educatore ad essere educatore al tempo del social network. Come essere significativi dentro uno spazio orizzontale ed emergente, strutturato e organizzato dal basso e non dall'alto? Questa è la domanda. Se si è testimoni e lo si è veramente le cose risultano più facili di quanto non possa sembrare. Ma occorre immaginare anche delle strategie di lavoro. Le strategie di lavoro in questo tipo di contesto sono quelle che io spesso lo richiamo, vengono definite in letteratura strategie di glossa. L'educatore 2.0 è un bravo glossatore, quindi è qualcuno che non fa lezione sulla cattedra, perché non ci sono più le condizioni per farlo, perché se si mettesse sulla cattedra a fare lezione quattro minuti dopo avrebbe già perso il suo auditorio. L'educatore 2.0 è un educatore che scende in mezzo ai ragazzi e che, la parolina nell'orecchio, glossa a margine. Il glossatore, al tempo degli scriptori, a medievali e anche dopo, era colui che appuntava le sue note a margine dei testi. Quelle note sintetiche, marginali, apparentemente non rilevanti, sono però quelle indicazioni che risultano fondamentali per comprendere il senso di quello che il testo scrive. Prendete la metafora e applicatela alla vita dei giovani. Il glossatore è colui che lascia delle note a margine della vita dei suoi ragazzi. Mentre le lascia sembra essere marginale e sembra farlo in punta di piedi, ma quelle poche note sono quelle che incidono in profondità. E' quello che è iscritto nel senso etimologico profondo dell'insegnamento come insegnare, tracciare dei segni dentro, in profondità. Ecco, quella lì è un po' la logica. Dopodiché bisogna però tradurla in metodo. Provare, cimentarsi, mettersi al lavoro perché non è semplice. Riprendiamo poi alcune delle vostre considerazioni che avete inserito in chat e soprattutto vi rispondiamo alla richiesta di avere qualche indicazione bibliografica, magari riassumendole in un documento che vi pubblichiamo, visto che anche in forum qualcuno ci chiedeva strategie o indicazioni bibliografiche più di taglio educativo legato al contesto della scuola. Quindi ve le recuperiamo tutte e le mettiamo in un documento che vi pubblichiamo tra i materiali del corso. Così come, lo diceva prima il professor Rivoltella, entro la prossima settimana vi diamo poi indicazioni precise, dei commenti proprio in chiave molto interlocutoria sui progetti molto interessanti che sono arrivati, anzi qualcuno ruberemo qualche idea per suggerirlo in altri percorsi, visto che sono state anche molto di valore creative poi le attività che sono state pensate. Intanto Sabatino ci dice il discorso del non si può prescindere poi dalla conoscenza del territorio, quando ci si rivolge al territorio per evitare quindi azioni disincarnate, come non si può prescindere da una relazione diretta con i ragazzi se si vogliono poi fare interventi di tipo educativo. E aggiungiamo un'ultima notazione, che è un rischio che però con attenzione si può evitare, l'avvento dei nuovi media, quelli che vengono definiti i cosiddetti new media, ci può portare ad un rischio, ovvero quello di non prestare più attenzione da un punto di vista educativo rispetto a tutti gli altri media. Come dire, ci concentriamo solo sul blog perché si parla di blog, perché è tra virgolette di moda, di tendenza o perché è la preoccupazione genitoriale del momento, ci si dimentica di televisione, di radio, di cinema, di altri strumenti che invece fanno parte di un sistema in stretta relazione. E' verissimo, questo comporta l'applicazione del cosiddetto principio ecologico, quindi adottare un punto di vista ecologico rispetto ai media, quando si fa educazione sui media, significa avere la capacità di giocare su tutta la tastiera multimediale, quindi di usare tutti i colori della tavolozza mediale. Come Sabatino osserva, il rischio è di concentrare l'attenzione esclusivamente sugli ultimi arrivati, solo sui nuovi, sui nuovissimi media. In questo modo si dimentica, uno, che in larga parte le diete mediali dei ragazzi sono fatte ancora anche di musica, di radio e di televisione, che occupano uno spazio rilevante, considerevole del loro consumo. Due, che i media, tra virgolette, vecchi, continuano a mantenere un significativo valore educativo. Lavorare sul blog, su Facebook o sugli altri applicativi della rete non significa disconoscere il valore educativo del cinema, ad esempio. Sarebbe sciocco non utilizzare più il cinema a supporto della catechesi, ad esempio, soltanto perché è meno nuovo del blog o di Facebook. E quindi, attenzione, perché i consumi mediali si nutrono ancora di media vecchi, attenzione perché i media vecchi spesso continuano ad avere uno straordinario valore educativo. E quindi, usiamoli tutti, giochiamo su tutta la tastiera, a secondo dei bisogni e dei contesti. Ecco, allora il richiamo alla necessità di radicarsi nei contesti è fondamentale. È solo leggendo i contesti e i loro bisogni che si riesce a capire quali siano i media che più serve utilizzare e quali siano le riflessioni a livello educativo che all'interno di quel contesto conviene spingere. Io direi che su questa risposta possiamo fermarci e lasciare la parola al nostro Presidente, a Giovanni Silvestri, lasciando a lui il compito di chiudere il modulo e di rilanciarvi l'attivazione e l'apertura del modulo successivo. Da parte mia, di Alessandra e di Simona, ancora un ringraziamento, un saluto, un buon lavoro carissimo. È stato molto bello fare questo percorso insieme a voi, chissà che non ci sia la possibilità di farne degli altri. Sì, grazie, grazie veramente di cuore al Professor Rivoltella, ad Alessandra e a Dottoressa Simona Ferrari e alla Dottoressa Alessandra Carenzio. Veramente ci hanno dato un contributo ricchissimo a partire dalla loro competenza, ma un contributo che si è ulteriormente completato con l'interazione con voi durante tutto lo svolgimento di questo seminario. Infatti questa ricchezza che è emersa da questo lavoro fatto insieme con la competenza del professore, con la competenza delle tutor e con anche il vostro apporto, il nostro proposito è quello di riprendere questi stessi temi, di farne tesoro, anche in iniziative che abbiamo in animo di portare avanti prossimamente come associazione web cattolici. Come sapete dal Deplian, che ormai già da diversi mesi è a disposizione di voi tutti, il prossimo modulo è progettare e gestire iniziative di comunicazione 2.0. È un modulo nel quale a partire dalle cose che si sono approfondite, dalle cose che abbiamo cercato di apprendere, già con il seminario guidato dal Professor Roncaglia e poi con il seminario guidato dal Professor Rivoltella, cercheremo di interrogarci su come nelle comunità ecclesiali se è possibile far nascere delle iniziative concrete che aiutino le comunità ecclesiali stesse e i nostri pastori ad orientarsi concretamente nelle sfide che ci attendono riguardo al tema dell'evangelizzazione, al tema dell'incontro con le comunità, che sono comunità di persone che frequentano le parrocchie, ma comunità di persone anche che non abitualmente frequentano le parrocchie. E quindi come questi fenomeni che abbiamo cercato di conoscere, di penetrare, possono diventare una risorsa al servizio dell'evangelizzazione, nel senso più ampio del termine. Cercheremo di farlo con l'aiuto del Professor Tomasi, o Andrea Tomasi, dell'Università di Pisa, che oltre che operare in ambito scientifico, ha una ampia esperienza anche di impegno nelle associazioni, nelle aggregazioni leicali, anche in una diocesi, la diocesi di Livorno, e nella sua parrocchia. E poi ci avverremo anche dell'aiuto di Don Marco Sanadio, che viene da una antica pluriannale esperienza di impegno, soprattutto con i giovani, nel confronto con i media e in particolare con Internet. Avremo anche poi un invito, che ci verrà rivolto a operare in questo senso, e anche l'illustrazione, direi, di alcuni obiettivi rispetto ai quali muoverci, da parte del Vescovo di Livorno, Monsignor Simone Giusti. Non mi addentro ulteriormente, perché poi saranno gli stessi protagonisti a spiegarci meglio come intenderanno impostare questo lavoro del terzo seminario, e ultimo seminario di questo anno pastorale 2009-2010. Come date rispetto alla prima versione del Deplian, c'è stata una leve modifica, uno slittamento in avanti, per cui questo seminario temporalmente si colloca tra il 29 aprile e il 20 maggio. Vi faremo sapere tramite e-mail quando ci sarà esattamente la lezione in diretta web inaugurale. Presumibilmente sarà il 29 aprile sera, ma ve lo confermeremo tramite e-mail. Vi cito poi altri appuntamenti. Uno è il convegno testimoni digitali. Dal sito testimonidigitali.it potete ulteriormente verificare e approfondire di che cosa si tratta, probabilmente già ne siete ampiamente a conoscenza. Vi ricordo che è ancora possibile iscriversi. La partecipazione, per chi non abbia esigenze di natura logistica, per quanto riguarda il pernottamento in particolare, è gratuita. Non è prevista una quota di iscrizione. Vi invito quindi a prendere in serie considerazione, se avete la disponibilità di tempo, la possibilità di partecipare. E approfondimenti possono essere richiesti sia alla segreteria organizzativa, sia agli uffici diocesani per le comunicazioni sociali. Altro appuntamento, il convegno del SIREM. SIREM, Società Italiana Ricerca e Educazione Mediale. È un convegno per specialisti. Io mi sono iscritto, non so se sarò realmente in grado di seguire fino in fondo i contenuti che verranno proposti. Leggendo il programma, certo ci sono dei temi molto molto stimolanti. Saranno affrontati da specialisti di queste tematiche. Se tra voi ci sono delle persone che si occupano in maniera approfondita di questi temi, che vengono descritti anch'essi in un sito internet, che è appunto il sito del SIREM, educazionemediale.it, chiedo al professore di correggermi, anche in questo caso ci fa piacere se avete la possibilità di intervenire. Anche su questo, come segreteria dell'Associazione Web Cattolici, possiamo darvi una mano per individuare delle soluzioni logistiche più comode per voi. Altro appuntamento, l'annuale assemblea dell'Associazione Web Cattolici. La data probabile per quest'anno è del 23 giugno. Questa assemblea vorrebbe essere, al termine di questo ciclo di seminari, un'occasione anche di incontro di persone. Ci siamo incontrati attraverso il web, ci siamo reciprocamente arricchiti di contenuti e posti reciprocamente domande a distanza. Riteniamo che sia utile incontrarsi, almeno in una giornata, per ritornare su alcuni temi, approfondirli ulteriormente e anche, rispetto a tutti i contenuti, cercare di fare sintesi. Rispetto poi a questa sintesi, ciascuno di noi poi, per le attività che porta avanti, potrà al meglio valorizzarle e tranne le conseguenze. Altra cosa, e guardo ancora a un futuro ancora meno prossimo, per l'anno pastorale prossimo, quindi a partire da ottobre 2010 fino a giugno 2011, abbiamo in animo, e lo dico direi a caldo, ma spero che poi da parte del professore e anche da parte della dottoressa Simona e Alessandra ci possa essere conferma di disponibilità, mi auguro che questo stesso seminario possa essere ulteriormente sviluppato, approfondito, sempre alla problematica della formazione e rispetto alle opportunità offerte dai nuovi mezzi, però ovviamente con delle ulteriori piste di approfondimento e di lavoro che potranno emergere, sia come rielaborazione di quanto è emerso in questo seminario, come ulteriore occasione di incontro che avremo a giugno e via via, anche attraverso delle domande che voi stessi, spunti che voi stessi potrete farci pervenire. Data l'ora direi che, e chiudo qui, un grazie da parte di tutto il consiglio direttivo dell'Associazione Web Cattolici, un grazie a voi tutti, un grazie a Rita, Rita Marchetti che spesso vi scrive per informarvi tempestivamente di tutto quello che quotidianamente cerchiamo di fare, grazie a Elvira che avete anche conosciuto attraverso i seminari che abbiamo svolto e condotto, grazie a Roberto Barile e Enzo Agrillo che ci hanno assicurato il funzionamento, anche tecnico, di tutto ciò che occorre a realizzare questi seminari a distanza, grazie a voi tutti, buon lavoro e a risentirci fin dai prossimi giorni per far tesoro al meglio di quanto in questo seminario siamo riusciti ad acquisire e ad apprendere. Grazie e buonanotte a tutti.